Ciao a tutti, un brevissimo video su un'applicazione che ho scoperto proprio oggi pomeriggio cercando annoiato per la verità in rete, è un argomento già trattato nei tutorial precedenti, cioè screen recorder e screenshot, cioè come registrare quello che ho sullo schermo e come estrarne degli screenshot magari da poter sottolineare, di evidenziare per creare nozioni didattiche da inserire in vari tester e prodotti multimediali. Avevamo visto LightShot come strumento per creare screenshot al di là di quelli inseriti evidentemente nei vari sistemi operativi, avevamo visto ScreenCustomatic e Loom per gli screen recorder, piuttosto che un uso alternativo di Zoom e Meet, per quelli che avevo mostrato, con il tasto Registrazione per le direzioni. Mi interessa questo, e vi farò vedere questo punto di vista, non tanto l'aspetto della web app, perché questa applicazione può essere utilizzata anche come estensione di Chrome, è proprio quello che voglio mostrarvi, l'estensione di Chrome, perché un'estensione di Chrome rende disponibile l'utilizzo, al di là della sottoscrizione di un account, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione, in particolare questa facendo parte di Chrome, essendo un'estensione di Chrome, potrebbe essere utilissima per esempio per chi utilizza la didattica con un Chromebook, piuttosto che con una G Suite, quindi si riesce facilmente ad integrare i contenuti. Se andiamo sul Chrome Web Store, il tempo di raggiungerlo, l'applicazione si chiama Nimbus, come la scopa di Harry Potter, e quindi se io la cerco Nimbus, ve la faccio vedere, ecco la Nimbus Screen Recorder, dovrebbe apparire di qui a un attimo, il tempo della velocissima ricerca della mia velocissima rete sul mio velocissimo computer, eccola qui, pare che l'abbia trovato, eccola, è proprio questo, ovviamente vedete io già ce l'ho installata, ma è un'operazione che vi costa con pochi secondi, e ce l'avete qui, è questa N che si trova qui sopra in alto. Come si utilizza? Ma è particolarmente semplice, al momento in cui viene installata si apre una pagina web in cui vi fa vedere un paio di video tutorial brevissimi, ma è proprio immediato, immaginate di aver fatto una ricerca, non lo so, come questa in cui ci sono le immagini di cappuccetto rosso, oggi ce l'ho con un cappuccetto rosso, volete estrarne uno screenshot di queste, basta cliccare sulla N e vi appare, vedete, una serie di opzioni e opportunità. Innanzitutto andiamo a vedere le opzioni, basso, preferenze, quali sono le preferenze? Vi spiega un po' tante cose, che tipo di formato immagine volete, un jpeg o un png? volete salvare le preferenze e quindi che si attivi la finestra salva con nome, vi fa vedere la schermata, potete scegliere anche il formato del vostro nome e quindi ritardo per le schermate ritardate, adesso vi faccio vedere che sono, insomma ci sono un po' di opzioni che potete settare e alla fine un utilissimo elenco di shortcut che potete utilizzare sulla tastiera per accelerare le operazioni. Benissimo, torniamo al cappuccetto rosso. L'altra cosa che potete settare dall'inizio è cosa succede dopo ogni cattura dello schema, dopo ogni screenshot. Io ho impostato che si apra direttamente la pagina della modifica, sì, perché estratto lo screenshot voi potete evidenziare, disegnare, scrivere, aggiungere caselle di testo sopra in modo da, in qualche maniera, aumentare e sottolineare l'importanza degli elementi che avete estratto. Ovviamente potete anche decidere di fare immediatamente di inviarlo a Google, per esempio, piuttosto che a Dropbox, oppure semplicemente di salvarlo sul vostro hard disk. Che tipi di screenshot si possono fare? La parte visibile della pagina, che è questa, la parte inferiore, nel momento esatto in cui voi la cliccate, nel momento esatto in cui la cliccate, vedete, si apre, io gli ho detto di aprire la finestra di modifica, si apre la finestra attiva che lui ha estratto, lo screenshot che è estratto, con possibilità di aggiungere un altro file, di ingrandire con uno zoom, di ridimensionare e quindi cambiare la larghezza dei pixel mantenendo le proporzioni, o non mantenendo le proporzioni, potete ridimensionare, potete disegnarci sopra, potete per esempio evidenziare una che è un disegno che vi piace particolarmente in questo caso, ecco, volete far vedere questo, potete indicare con delle frecce qualche altra cosa, potete mettere il test sulla freccia, insomma, potete utilizzare una serie di cose, il spessore delle linee, avete dei bambini nella fotografia, potete per esempio decidere di sfocarne il volto in automatico, ce ne sono di più tipi, inserire delle ombre, insomma, potete fare un po' di lavori interessanti, quindi lavorare sullo screenshot, ovviamente alla fine, se mettete fine, lui vi chiede cosa ne volete fare, lui ha evidenziato tutto e quindi potete inviarlo al drive, su Dropbox, su Slack, stamparlo, salvarla come immagine piuttosto che come PDF, ok? Mi sembra rapido e veloce. Le altre opzioni sono più o meno analoghe, però vi facilitano le scelte, per esempio, frammento, lui vi individua già separatamente tutte queste fotografie, quindi basta che indicate, lui ve la selezione. Area selezionata è quella classica, perché nel momento in cui selezionate un'area, voi avete la possibilità di scegliere, ecco qua, lui oscura tutto e evidenzia solo quello che voi volete salvare. Che potete fare qui? Lo potete fare direttamente dalla selezione, mandarlo, salvarlo, spostarlo, cancellarlo, salvarlo sul vostro disco, o andare evidentemente alla modifica, come al solito. Ancora che cosa potete fare con Nimbus? Un'area di selezione a scorrimento, la pagina vedete è molto lunga, se guardate la barra di scorrimento laterale, in questa maniera potreste, per esempio, ecco qui, andarvene e selezionare una striscia, per esempio, se non me l'ho fatto fare, torniamo solo, annulliamo, andiamolo a riselezionare, selezione scorri, ecco qui, quindi io posso automaticamente scendere nella pagina e trascinarmi la finestra, ecco qua, problema di gestione del mouse, trascinarmi la finestra di selezione anche sotto quella che io vedo, quando infatti vado a creare l'opzione di modifiche, quindi vado a vedere, avrò la striscia di tutto quello che ho selezionato, anche quello che non era evidentemente nella nella finestra attiva, usciamo da questa parte, andiamo a vedere le ultime opzioni, pagina intera, quindi tutto quello che c'è nella pagina, lui seleziona tutto fino in fondo, schermata con ritardo, questa potrebbe essere interessante nel momento in cui dovete cogliere il fermo immagine di qualcosa, ma vi serve qualche secondo, magari per premere un pulsante, più sto tosto per attivare un'opzione, quindi lui piglia un ritardo che aveva impostato qui in questo caso 3 secondi, la finestra del browser, la schermata della finestra del browser, una schermata vuota all'interno del quale potete inserire altre cose, quello che è interessante è che Nimbus, oltre alle opzioni di screenshot, ha l'opzione di registrazione video, che cosa fa nell'opzione di registrazione video, può individuare la scheda, cioè la finestra attiva, l'intero desktop e l'utilizzo della webcam, ovviamente nel momento in cui voi, la webcam non la usiamo perché è impegnata in screen customatic, però per esempio se voi individuate la scheda, avete la possibilità di registrare l'audio del computer, di avviare la webcam, quindi vi uscirà più o meno come qui la finestrina laterale, e di utilizzare gli strumenti di disegno, oltre che di aggiungere un watermark personale, una filigrana, un simbolo che riguardi voi. Se volete spingere, andate a settare la tipologia del video, io l'ho messo in automatico, ma vedete potete utilizzare una serie di cose. Quello che è interessante è questo, cioè tutto quello che disegnate non se ne va mai, ma potreste anche utilizzare un effetto, per intenderci una sorta di effetto laser, che dopo 3 secondi, 6 secondi o altro, quello che voi disegnate viene cancellato, quindi magari voi evidenziate una parte microfono, quello breve definito, la webcam è quella integrata, quindi in questo caso non ho possibilità di scelta, per cui non ho da fare altro che iniziare il record, per cui lui fa questo piccolo conto alla rovescia e mi mette in condizioni di lavorare. Vedete in basso che vi appare la barra di selezione del disegno, per cui, come abbiamo fatto prima, possiamo evidenziare una parte, possiamo, non lo so, possiamo disegnare più o meno liberamente, nella realtà in questo caso sul computer crea una specie di poligonale, e fare insomma un po' di cose, cancellare, cambiare colore, evidenziare alcune parti, dovrebbe esserci anche il testo, anche se non lo vedo, qui per esempio, andiamo a vedere le opzioni, check mark, insomma se si barrano, insomma, c'è un po' di cose da organizzare, per cui questo diventa anche uno strumento per una video lezione, quando avete finito voi non fate altro che cliccare fine presentazione, adesso sta registrando, per cui eccolo qua, interrompi registrazione, e come succedeva per gli screenshot, vi appare in questo caso la finestrella che vi chiede che cosa volete fare del vostro video, salvarlo, salvarlo sul sito, inviarlo direttamente a Google Drive, con cui siete logati in quel momento, caricarlo automaticamente su YouTube, o in questo caso, per esempio, mi piace l'idea di salvarlo sul mio harddisk, eccolo qua, la finestra di salvataggio sul mio harddisk inferno, una parte interessante è una conversione, non so come, eccolo qua, basta cliccarci sopra, questo qua si può in qualche maniera modificare il video, altra cosa comoda, se qualcuno vuole cimentarsi con l'editing video, e quindi qui avete la possibilità di allargare la sequenza temporale, quindi di vedere i frame più ingranditi in modo da lavorarci, potete creare un ritaglio, o tagliare parte del video e incollare la parte restante, per cui, insomma, strumento velocissimo, semplice, e mi sembrava carino, mi sembrava evidentemente carino farvelo vedere. E voglio dire, non vi resta che provarlo, per cui, arrivederci e ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie.